Password e trucchi per Dates Before Christmas per Mega Drive Cominciamo con le password che ovviamente vi metto anche in descrizione Adesso un codice che permette di giocare fino a 20 persone Ecco, quel verso di Babbo Natale certifica che il codice è corretto Qua si va a scegliere quante persone giocheranno Il codice è BA Destra Destra A e va inserito nella schermata dei titoli Il problema è che giocherà sempre una persona alla volta Si gioca a turni e bisogna aspettare che un giocatore perda la vita prima che possa giocare un altro Quindi un trucco tendenzialmente inutile Adesso il codice per selezionare il livello La sequenza di tassi da inserire sempre nella schermata dei titoli è C A Destra Sinistra Destra Su Sinistra A Destra E come potete vedere adesso sto scegliendo uno schema E dopo si comincerà a giocare da quello schema Grazie per la visione Un like e un'iscrizione al mio canale Saranno sempre graditi Vi do appuntamento ad un altro video Grazie per la visione